buongiorno a tutti ragazzi problemi ce ne sono e ce ne saranno sempre nella juventus nel calcio nella vita in generale però oggi voglio parlare di quello che secondo me il più il più grande veramente il maggior problema della juventus in assoluto in generale e credo che questo sia un riflesso che sta diventando sempre più evidente partita dopo partita partono un presupposto poche ore fa sul canale di kinoshi è uscito un video che abbiamo fatto insieme abbiamo registrato insieme in quel di roma in hotel dove parlavamo delle parole di giuntoli in una conferenza stampa anzi in un pre partita ad azon dove gli domandavano di una priorità per quanto poteva riguardare il mercato della juventus di gennaio e giunto gli rispondeva che se avesse avuto la possibilità di tesserare principalmente un attaccante un difensore avrebbe scelto un difensore vi riassumo molto velocemente il mio pensiero quello che ho spiegato anche sul canale di chino e cioè che la juventus quest'anno è partita con una rosa a disposizione che contava bremer tra gli altri e ora si ritrova con una rosa disposizione che non potrà recuperare bremer prima del termine della stagione bremer tornerà all'inizio della prossima e non sarà nemmeno magari pronto dalle primissime partite per andare in campo dovrebbe ritornare intorno a settembre quindi magari anche ottobre manca insomma circa un anno al ritorno di bremer per la juventus questa stagione non potremo più averlo quindi viene da sé pensare che un difensore abbia senso inserito all'interno della rosa proprio per questo motivo per quando riguarda gli attaccanti invece no perché la juventus può recuperare nico gonzalez la juventus può recuperare milic e questi sono tutti i giocatori che possono giocare anche al posto di vlaovic insieme a ildis insieme a wea e appunto insieme a milic insieme a nico gonzalez tutti giocatori che possano ricoprire il ruolo di prima punta senza dimenticare bangula che già stato schierato in un paio d'occasioni da tiago motta proprio in quella posizione quindi capisco trovo coerente il discorso di andare su un difensore perché quello ce l'avevi inizio anno e non lo potrei più avere piuttosto che andare principalmente su un vice vlaovic dato che in realtà quelli li puoi recuperare durante l'anno e puoi avere a disposizione tante alternative a vlaovic significa che non è necessario un vice vlaovic no per nulla anzi credo che queste partite ci abbiano confermato esattamente il contrario e cioè che la juventus un attaccante di scorta serva e anche tanto perché vi dico questo perché voglio fare un'analisi su quelli che sono stati i cambi di tiago motta in occasione dell'ultima partita disputata quindi lì li juventus uno a uno tiago motta doveva fare dei cambi arrivi a un certo punto della partita in cui i cambi sono necessari sono fondamentali perché vi cercare di conservare un certo livello qualitativo della prestazione dei giocatori della squadra di tutto quanto sia perché devi anche pensare agli impegni successivi quindi il mix tra raggiungere il massimo all'interno della partita che stai giocando e anche programmare quello che verrà perché noi tifosi spesso volentieri ci fermiamo ad estremizzare a banalizzare a commentare ad analizzare quello che volete soltanto la partita in corso tradotto io questo cambio non l'avrei fatto in quel determinato momento perché fattore x fattore y fattore z senza ricordarci dimenticando forse sorvolando sul fatto che gli allenatori invece devono programmare anche quelle che saranno le prossime partite quindi vi dico non trovo completamente sbagliato rimuovere vlaovic in quella porzione anche quello in diretta non lo trovavo sbagliato perché appunto anche vlaovic avrà necessità di rifiatare poveraccio sta facendo dei super straordinari perché non c'è mai stato a disposizione il giocatore di riserva nei confronti di vlaovic speriamo che possa stare benissimo da cui alla fine dell'anno però vlaovic sta oggettivamente giocando troppo questo è un dato di fatto non possiamo prenderci in giro quindi ci sta togliere vlaovic il problema è che se lo togli per farlo rifiatare perché non è più al 100 per cento eccetera eccetera i giocatori che va a inserire al suo posto possono si occupare la posizione offensiva di vlaovic al centro dell'attacco e muoversi come numero 9 o come falso 9 all'interno dello schieramento offensivo di tiago motta ma lo fanno ovviamente con caratteristiche diverse ma vlaovic tra tutti quelli che abbiamo citato e quindi bangula hildiz wea e nico gonzalez escludendo milic da questa equazione questi quattro giocatori che possono giocare al posto di vlaovic sono giocatori che non vanno a interpretare il ruolo dell'attaccante come dei veri propri attaccanti non sono dei veri propri riferimenti sono o delle mezze punte o degli esterni comunque giocatori con spiccate caratteristiche offensive che non fanno la punta di professione gli attaccanti le prime punte delle mezze punte che possano giocare come prime punte come nel caso di milic che sono giocatori diversi da hildiz proprio per caratteristiche per interpretazione del ruolo sono in grado di tenere sul pallone io credo che sia in occasione di udinese juventus 0-2 sia in occasione di lille juventus 1-1 nel momento in cui è stato sostituito vlaovic abbiamo assistito alla stessa scena una juventus incapace di riuscire a tenere il pallone alto perché fra tutti i limiti che ha vlaovic è sicuramente dal punto di vista del gioco di tiago motta dall'applicazione tattica che vuole tiago motta vlaovic non è il giocatore perfetto però dal punto di vista del pressing è sempre il primo difensore e aiuta tantissimo in fase di non possesso dal punto di vista dei palloni che arriva là davanti è vero che non ha il massimo della pulizia tecnica è vero che non è il giocatore migliore del mondo nel rifinire nel ripulire i palloni però quando c'è una palla alta su cui andare a lottare e magari anche provare a vincere un contrasto che non sempre venga vinto però il pallone in alto si riesce a tenere cosa che difficilmente riescono a fare ildis wea bangula e forse anche nico anche se tiago motta ha già detto che nico preferisce vederlo in fascia perché gli vuole vedere attaccare il secondo palo con delle caratteristiche importanti forse se potessi scegliere oggi il vice vlaovic tra quelli che sono disponibili scegliere wea perché wea ci ha già fatto vedere di avere un certo istinto dal punto di vista della porta quindi una buona confidenza con la realizzazione un giocatore molto freddo sotto porta l'abbiamo visto anche in occasione dei gol a inter e parma eppure nelle ultime due partite è stato utilizzato il dis che è un giocatore che a me stimolava tantissimo in quella posizione e concludo prima di bocciare definitivamente il dis come falso 9 lo voglio vedere dal primo minuto perché un conto è il dis che mi fa avanti indietro sulla fascia per 70 minuti e poi deve spostarsi e traslocare deve andare in attacco quando ha già faticato ha già fatto un altro tipo di partita i difensori magari devono fare un certo tipo di approccio o magari come l'udinese che era in vantaggio quindi doveva ripartire molto di più o l'il che ha cercato di giocare sui nostri errori quindi io vorrei prima di bocciarlo definitivamente vederlo almeno al primo minuto però per caratteristiche credo che il miglior giocatore in assoluto sia UEA per poter far rifiatare Vlaovic in questo momento e non avrei mai detto perché comunque UEA è un giocatore che l'anno scorso abbiamo visto fare il quinto di centrocampo quindi in fase di non possesso faceva praticamente il tornante il terzino di destra oggi invece ci viene a dire è lui il giocatore che deve andare a fare la punta quando Vlaovic proprio non ce la fa più capite veramente gli estremi abbiamo passati siamo passati da un estremo all'altro nel giro di pochissimo tempo UEA tra l'altro secondo me quest'anno sta facendo un'ottima stagione nelle volte in cui è stato a disposizione sta facendo molto molto bene quindi un giocatore secondo me interessante da monitorare a cui va data anche più fiducia forse anche nelle rotazioni con più frequenza ha avuto un po' di problemi fisici adesso è tornato a disposizione secondo me sarà un giocatore importante probabilmente il Tiago Motta il buon Timothy UEA però questo tutto questo tutto quello che vi ho raccontato va a complicare le partite perché ovviamente poi le partite devono essere prese in considerazione dal punto di vista delle rotazioni dei prossimi impegni dell'equilibrio che serve alla squadra di un determinato giocatore che magari in quel momento ti servirebbe ancora però devi pensare che è stanco viene a mille partite la prossima deve giocare ancora non è alternative devi inventarti qualcosa ti mancano quelle caratteristiche allora devi arrangiarti ed ecco che si vanno a complicare le partite perché sarebbe stato fondamentale oggi tenere Vlaovic 90 minuti avere la lingua di fuori Vlaovic sta giocando tutti i minuti praticamente sta saltando un quarto d'ora partita perché ormai diventa necessario anche nei momenti in cui Vlaovic non lo dovresti togliere dal campo questo è un problema questo è un problema e lo puoi realizzare risolvere soltanto passando dal calcio mercato e cercare di andare a prendere un giocatore che possa far rivettare Vlaovic qui si apre un altro problema però che tipo di giocatore vai a prendere perché non puoi andare a prenderne uno solo perché ti serve l'attaccante di scorta sarebbe un grave errore la Juventus non può comprare soltanto per comprare l'anno scorso il mercato di riparazione è stato un mercato che col senno di poi e col senno di poi intendo sei mesi dopo è stato completamente annullato perché la carastra non è stato riscattato perché Tiago Gialo è stato bocciato anche da Tiago Motta Allegri non l'aveva praticamente mai utilizzato io apro e chiudo una parentesi come anche questo col senno di poi uno tra Rugani e Tiago Gialo sarebbe tornato molto utile in rosa visto anche poi l'infortunio di Bremer che non era prevedibile però il professore centrale io vi ho sempre detto da quest'estate che l'avrei tenuto in rosa a prescindere uno in più perché è una stagione lunga difficile complicata ed era un attimo avere necessità di inserire un altro componente in quel reparto peccato non è andata così e quindi dovremo cercare di stringere i denti a gennaio andare su un difensore non voglio fare nomi in questo momento non è quello che mi interessa soltanto ragionare insieme a voi che sì un difensore serve in realtà servirebbe davvero anche un vice Vlaovic con delle caratteristiche davvero ad attaccante da numero 9 non dei giocatori adattati che possono giocare lì che è un discorso differente abbiamo necessità anche di avere qualitativamente un giocatore importante ed è per questo che vi dico che diventa complicato perché la Juve non solo deve andare sul mercato prendere un giocatore di quel tipo ma anche un giocatore interessante tutto questo ricordandoci che Milik comunque prima o poi non so se prima se poi se non tornerà dovrebbe tornare pure lui perché questo momento è completamente sparito dai radar ricordiamo che teoria sulla carta non era un infortunio di particolar conto eppure è da giugno praticamente che Milik è indisponibile e non stiamo comprendendo esattamente quale sia il grado di gravità di questo infortunio al ginocchio quindi questo è diventa un problema non avere dei giocatori che possano far rifiatare Vlaovic perché Vlaovic le dovrebbe giocare tutte ma è letteralmente impossibile farle giocare tutte voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti